Eccoci qua ragazzi, ragazzi prima che inizi il video mi raccomando un bel like, attivate la campanellina Ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere contest, video e live riguardanti in sala del mondo Notizie di Fortnite ragazzi mi raccomando, dal vostro Kikosgar è tutto, vi lascio al video, un bacione, bella boys Grazie 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 per la visione